Si infuoca di nuovo la situazione del mercato. Gli operatori della Palmetta, infatti, si preparano per l'occupazione della trincea ferroviaria e dello stesso mercato, se entro lunedì non avranno risposte da parte dell'amministrazione comunale sul rallentamento dei lavori, del perché a distanza di più di un anno il mercato non sia ancora finito e soprattutto le motivazioni per cui solo loro mercatali della Palmetta stiano conducendo questa battaglia in risposta ai silenzi invece di tutti gli altri operatori posizionati sulla trincea. Questa situazione non è critica ma disperata, spiega la rappresentante dei commercianti Emanuela Candolfi. Abbiamo chiesto più volte le motivazioni all'amministrazione riguardanti lo stop esagerato di questi lavori e se entro lunedì non avremo delle risposte concrete, continua, martedì occuperemo la trincea e parte del mercato. Dall'altra parte della barricata, invece, l'assessore non si replica. Lunedì, insieme al sindaco, pubblicheremo l'autorizzazione paesaggistica e i lavori riprenderanno regolarmente. Non capisco, aggiunge, i problemi degli operatori della Palmetta. Prima vogliono restare e poi si lamentano che vogliono andarsene. I lavori, aggiunge, non si sono mai fermati, semplicemente abbiamo aspettato il via per alcune modifiche interne e fortunatamente la maggioranza dei mercatali ha fiducia in noi. Purtroppo, conclude, questa amministrazione imbalia dei mercatali e non il contrario. Dallo schermo al carcere vero e proprio, il passo è stato breve per l'attore romano Stefano San Marco, uno dei protagonisti del film 5 di Francesco Maria Dominedò, arrestato venerdì sera poco dopo le 20 dai carabinieri. Con lui, a finire in manette, il civita vecchiese Enrico Galassi, entrambi sono accusati di spaccio di stupefacente. I militari dell'arma erano impegnati in alcuni servizi finalizzati alla prevenzione e repressione di simili reati, quando nei pressi del parcheggio del centro commerciale dove si trovano Carabetta e Motor Show Celestini di via Terme di Traiano hanno notato una X3 nera con a bordo tre ragazzi, con fare sospetto. Li hanno seguiti per diversi metri, fino all'altezza della cona delle Terme. Qui il civita vecchiese si è avvicinato all'auto, ha infilato la mano sotto il giubbotto e si è portato vicino a San Marco. Inizialmente si pensava ad una rapina al supermercato, considerato l'orario di chiusura ed il fine settimana con le casse piene. Tanto che anche dall'interno del magazzino, visto il movimento fuori, è stata allertata la polizia. Invece i due probabilmente si stavano scambiando l'hashish. Immediato l'intervento dei carabinieri che li hanno fermati all'interno dell'auto, sono stati trovati circa 800 grammi di hashish e 900 euro in contanti, provento, dell'attività illecita. Sono quindi scattate anche le perquisizioni domiciliari a Roma e a Civitavecchia, al termine delle quali Galassi e San Marco, che nel film interpreta uno dei ragazzi del Quarticciolo che si conoscono in riformatorio ed entrano pian piano nel mondo dell'illegalità attraverso piccoli reati e poi una rapina, sono stati arrestati e condotti al supercarcere di Borgata Aurelia. Divorzio in casa del Partito Democratico. Dopo la riunione svolta dalla componente Un'altra città è possibile, indetta al fine di conoscere e discutere le motivazioni che hanno indotto Guido Gori a rassegnare le dimissioni dal partito e dal direttivo, la componente ha deciso di dare un taglio definitivo ad un rapporto ormai deteriorato. A comunicarlo è il presidente della componente, Liviana Lancia. In seguito agli ultimi avvenimenti che hanno allontanato sempre di più i membri di Un'altra città è possibile dal PD, spiega, nonché alla decisione dell'amico Guido Gori di lasciare il partito e il direttivo, comunico a questa segreteria che il gruppo e i membri del direttivo rassegnano le ruole dimissioni dal partito e dal direttivo. Una decisione che coinvolgerà certamente anche Mauro Guerrini, che ora si trova ad un bivio, proseguire il cammino verso le elezioni contando solo sulle sue forze e su quelle di quanti gli hanno dimostrato fedeltà o ritirarsi a vita privata. Il caso Carraffa è rientrato o forse non è mai esistito, almeno per il coordinatore provinciale del PDL Francesco Lollo Brigida. Le dichiarazioni del candidato consigliere, inserito proprio nella lista del PDL e sostenuto dalla destra che alla lista ha rinunciato, non erano piaciute all'altro candidato, Patrizio Podda. Carraffa aveva detto infatti di non sentirsi a casa del PDL nonostante la candidatura, motivo per il quale proprio Podda aveva interrogato Lollo Brigida. «Respingo qualsiasi interpretazione strumentale e capziosa delle mie dichiarazioni», ha poi chiarito Carraffa, ribadisco di essere un iscritto e convinto militante del PDL per il quale faccio propaganda fin dalla sua fondazione. Ma ciò non toglie che con la comunità politica della destra sia cementato un rapporto basato sulla fiducia, sul rispetto e sulla condivisione dei programmi per il futuro di Civitavecchia. Il resto sono solo chiacchiere in libertà. Una vicenda chiarita proprio da queste dichiarazioni, secondo Lollo Brigida. Carraffa si dice orgoglioso di essere nel PDL, ha spiegato il coordinatore. Se poi altri partiti non presentano la lista e ci sostengono, ben venga. È anche questo lo spirito del PDL che raccoglie le diverse istanze del centro-destra. Anche di questo si è discusso nel corso di un incontro proprio tra Lollo Brigida, il sindaco Moscherini e gli attuali componenti della lista del PDL per le prossime amministrative in fase di conclusione. Una lista particolarmente competitiva, ha sottolineato Lollo Brigida, come competitive, forse anche più del 2007, sono oggi le larghe intese. Abbiamo ricomposto il quadro quasi per intero, forti di un equilibrio amministrativo che ha permesso di portare avanti 5 anni di legislatura con un governo che non ha voluto cedere a ricatti e giochi di palazzo. Se c'erano delle zavorre all'interno della squadra, queste oggi non sono più presenti e noi possiamo così affrontare, dopo aver gettato importanti basi, la fase 2 dell'amministrazione Moscherini, fondata su progetti importanti e costruzione di risultati. Lollo Brigida è sicuro delle potenzialità del PDL e delle larghe intese, quindi nell'incontro di oggi, aggiunto, ha potuto riscontrare entusiasmo e volontà di vincere e garantire a Civitavecchia il futuro che merita per il suo sviluppo. Un ruolo da protagonisti per noi insieme all'apporto fondamentale del governatore del Lazio Renata Polverini, con la quale il rapporto si è maggiormente rafforzato. La Procura di Civitavecchia ha aperto un'inchiesta sui lavori fermi al porto Concordia di Fiumicino. Tutte le carte custodite nel comune di Fiumicino sono state acquisite dai magistrati, coordinati dal procuratore Gianfranco Amendola. I magistrati stanno passando al setaccio, concessioni dei maniali e marittime, appalti e subappalti. Il blitz risale alla settimana scorsa, quando sono stati acquisiti tutti gli atti fotocopi e faldoni che ruotano attorno al porto Concordia. Un progetto che prevede la realizzazione di un'opera da 400 milioni di euro per circa 1.500 posti barca. Un blitz fotocopia di quello avvenuto pochi giorni prima di Natale ricorda un articolo del Corriere della Sera, quando gli agenti del nucleo di polizia giudiziere inviati dalle toghe avevano già bussato negli uffici del comune tirrenico in cerca di materiale. Un'inchiesta parallela a quella sul porto d'Imperia che il 5 marzo scorso ha portato all'arresto di Francesco Bellavista Caltagirone con l'accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato. Due filoni di un'unica maxi-indagine sugli affari d'olo del colosso imprenditoriale. Un legame che è stato confermato dalla stessa ordinanza di custodia cautelare messa nei confronti del re dei due porti e firmata dal GIP d'Imperia Ottavio Colamartino in cui si sottolinea la possibilità concreta di reiterazione dei reati visto che Caltagirone è attualmente in corso la realizzazione del porto turistico di Fiumicino e sta utilizzando le stesse modalità di fraudolenta lievitazione dei costi sperimentate a Imperia. Appare quindi sempre più concreto il timore che il terremoto giudiziario che coinvolge l'imprenditore possa mettere la pietra tombale alla realizzazione del porto di Fiumicino il cui cantiere è fermo da quasi due anni dopo che le imprese locali hanno fermato i lavori per il mancato pagamento degli interventi. La posa della prima pietra del porto Concordia risale al 4 febbraio 2010 i lavori poi si interrupperò dopo circa sei mesi 7 milioni di euro ricorda il quotidiano nazionale e il credito vantato da almeno quattro aziende del litorale romano la Garofano, la Beton Lido, la Mecca Trasporti e la AG. Tali ditte hanno presentato decreto ingiuntivo nei confronti della Save Group imprese esecutrice come la Sielt Immobiliare indicate sul cartello del cantiere di Fiumicino Superaziende, scrive il Corriere della Sera che fanno capo alla concessionaria iniziative portuali Porto Romano controllata al 55% dalla società Acqua Tirrena di proprietà della casa madre Acquamarcia. Mauro Guerrini segue i suoi e lascia il PD una decisione quasi certa già la settimana scorsa dopo che alle dimissioni del membro del direttivo Guido Gori, rappresentante della componente del consigliere comunale Un'altra città è possibile era seguita la decisione di tutti i suoi membri di abbandonare le file del PD e che ora trova conferma nella parole di Guerrini. La dura posizione assunta dal segretario del PD locale, ha dichiarato l'ex Democratico in merito alla ferma richiesta di rispettare il codice edico siglato dai partiti della coalizione del centro-sinistra è stata valutata negativamente così come è stata valutata negativamente l'improvvisa estromissione di Gori dalla Commissione dei Garanti e, aggiunge prima ancora il violento attacco in cui venivano invitati a lasciare il partito solo per aver avuto l'impudenza di chiedere anche a Civitavecchia di allestire i gazebo per le primarie così come si era fatto nel resto d'Italia Pensavamo di militare in un partito ha detto Guerrini aperto e democratico nel quale anche le componenti di minoranza sono considerate una risorsa per il contributo di idee che sono capaci di esprimere attraverso il confronto dialettico sono convinto che non sia utile alla vita e alla crescita democratica a mettere un pensiero unico e totalizzante e credo basterà poco tempo per vedere a quali gravi ripercussioni politiche potrebbe il perseguire di questa strategia pertanto, conclude Guerrini accolgo l'invito del segretario di uscire dal partito Dati importanti quelli che arrivano dal C-Trade appunto di Miami per quanto riguarda il numero di passeggeri per quanto riguarda gli attracchi per quanto riguarda anche lo sviluppo del porto in relazione al territorio Sì, parliamo degli anni 2013-2014 nel 2013 abbiamo ottenuto un incremento del 105% per quanto concerne gli scali di Carnival Group abbiamo ottenuto il 25% in più per quanto concerne la Holland Royal Caribbean con protocollo di intesa con l'autorità portuale ci ha confermato la volontà di riportare le due grandi navi che hanno l'oceano Atlantico nel Mediterraneo e quindi utilizzare come un porto il porto di Civitavecchia e questo in termini numerici in termini passeggeri significa arrivare per il 2014 a circa 3 milioni di passeggeri questo per noi rappresenta comunque un importante obiettivo raggiunto Ecco, alla base c'è lo sviluppo delle infrastrutture Assolutamente sì noi abbiamo presentato questi numeri si raggiungono quando si è credibili e quando al tavolo con gli armatori così importanti si portano progetti e soprattutto si fa capire che non sono progetti che si realizzeranno chissà quando ma che sono progetti che sono stati appaltati infatti con noi era presente anche il progettista era presente l'impresa per cui insomma abbiamo fatto capire che abbiamo messo in campo con grande spirito di sacrificio con grande spirito di dedizione e con tutte le nostre forze un'azione costante per cercare di realizzare infrastrutture che ci consentano e che ci hanno consentito di ottenere i numeri che vi ho citato poc'anzi Pubblicazione di bandi da parte della provincia di Roma per le imprese? Sì, siamo molto contenti perché abbiamo pubblicato cinque bandi per un totale di risorse di 4 milioni e mezzo di euro e in particolare uno di questi bandi dà la possibilità per la prima volta in Italia di dare garanzie anche a giovani società piccole e imprese che non hanno le garanzie reali cioè non hanno le spalle grandi di papà però hanno magari un'idea bella un talento e grazie ai 3 milioni di euro di questo bando la provincia può dare garanzie al posto di questi ragazzi e ragazze l'importante è che siano società con la maggioranza di componenti entro i 35 anni Ecco, quanto tempo c'è e da quando si possono fare le richieste per accedere al bando? Il bando è già aperto scadrà il 9 aprile c'è un numero verde per chiedere tutte le informazioni possibili nel nostro sito e quindi c'è ancora tutto il tempo per formare una domanda stasera ne parleremo siamo già inondati di domande perché indubbiamente la fase economica purtroppo è quella che tutti conoscono la situazione economica del paese è molto difficile ragazzi e ragazze purtroppo non trovano lavoro se lo trovano lo trovano molto precario e noi nella giunta Zingaretti abbiamo pensato che sia giusto dare un contributo importante di qualità anche perché c'è una cosa di cui siamo orgogliosi che i nostri soldi sono soldi certi veloci abbiamo proprio in questi giorni avuto grandi riconoscimenti anche dalla Corte dei Conti la provincia di Roma paga 60 giorni tutti i fornitori quindi coloro che ascoltano anche questo servizio tutti coloro devono avere fiducia di fare le domande che saranno guardate con grande attenzione la nostra banca tesoriera l'Unicredit li guarderà e controllerà noi auspichiamo che si possa dare fiducia e perché no creare nuova occupazione con questa nostra iniziativa questa volta si chiama ICPL il nodo della discordia fra maggioranza e opposizione prevista per oggi è slittata domani mattina a causa dello scioglimento della massima assise cittadina in quanto mancava il numero legale la discussione della delibera consigliare che prevede l'uscita del comune dai CPL con l'approvazione di questa delibera il comune rinuncia alla retribuzione delle quote di sua proprietà il 5,6% per un capitale pari a 70 milioni di euro rinuncia alla riduzione della convenzione di 14 anni tornando a 40 anni e riconosce alla società il pagamento di 6 milioni e 600 mila euro per le opere contestate da pagare con i fondi Cipe a disposizione entro 30 giorni dell'approvazione della delibera ha spiegato il capogruppo PD Marco Piendibene durante una conferenza stampa convocata dopo lo scioglimento del consiglio insieme ai consiglieri Tidei Petrelli e Manuedda siamo disposti ha aggiunto Piendibene a rivolgerci alla Corte dei Conti oltre che alla Procura della Repubblica di Civitavecchia e alla Procura Antimafia perché vogliamo capire come mai il Comune deve pagare delle opere che nessuno ha valutato parla di un ennesimo fallimento causato dalla malagestione del sindaco il consigliere Marietta Tidei che punta il dito anche contro i colleghi di maggioranza sono degli scendiletto che non sanno dove stanno andando vuole invece capire l'urgenza dell'approvazione di questa delibera il consigliere Manuedda la conferenza dei capigruppo si è svolta senza l'atto di cui si dovrà discutere domani addirittura in attesa di un'email necessaria per la redazione della delibera e sfida gli altri consiglieri a conoscerne il contenuto che approderà domani fra i banchi della Pucci Completato un altro step dell'accordo tra comune di Civitavecchia e nelle produzioni SPA del 14 aprile 2008 è infatti terminato il monitoraggio di analisi per lo studio di fattibilità degli impianti fotovoltaici su edifici comunali aperta quindi la via delle energie rinnovabili per il comune di Civitavecchia che aspetta solo di vedere realizzate le installazioni se la squadra di Moscherini sarà riconfermata dopo le elezioni di maggio i dati sugli impianti sono stati presentati da un entusiasta assessore all'ambiente Leonardo Roscioni che insieme al sindaco Gianni Moscherini e due dirigenti Enel hanno illustrato i risparmi che si potranno avere nell'adozione di impianti fotovoltaici per la città e tutto ciò che verrà risparmiato ha sottolineato Roscioni potrà sicuramente giovare oltre all'ambiente anche alle casse comunali visto che si impiegheranno le economie in altre risorse dallo studio illustrato da Vincenzo Balocchi di Enel Green Power è stata fatta un'attenta analisi sugli edifici pubblici in particolare sulle superfici dei tetti che potrebbero ospitare gli impianti attentamente indicati dagli uffici di Roscioni che vede in tutto 12 strutture tra cui lo Stato del Nuoto Palazzo del Pincio e Villa Santina il primo cittadino ha anche espresso la volontà di coinvolgere anche l'ater cittadino cosicché anche le famiglie delle case popolari potranno suffruire della fonte rinnovabile la tecnologia fotovoltaica permette di trasformare direttamente l'energia solare incidente sulla superficie terrestre in energia elettrica sfruttando le proprietà del silicio un elemento semiconduttore molto usato in tutti i dispositivi elettronici installare un impianto fotovoltaico ha dichiarato Balocchi di Enel non rappresenta una spesa ma un investimento in termini economici l'energia prodotta da un impianto fotovoltaico sul tetto di una casa genera ricavi superiori all'esborso necessario per installarlo e mantenerlo secondo sempre l'analisi di fattibilità il costo per realizzare tutti gli impianti sarà di 960.000 euro che porteranno circa 2 milioni di euro per i prossimi 25 anni nelle casse comunali è un progetto importante la terza edizione che portiamo avanti grazie al lavoro fondamentale dell'associazione Chirone che è l'associazione che gestisce sia il nostro polo culturale quindi il museo civico e la biblioteca comunale ma anche tutte le attività a corollario quindi anche questa volta un richiamo fortissimo a Tolfa per tutte le scuole di Roma e provincia che appunto attraverso questo importante progetto finanziato dalla fondazione appunto riescono ad avere degli elementi importanti sulla storia e sulla natura Sindaco Tolfa ha un calendario sempre pieno di eventi indubbiamente tantissimi eventi e tantissime iniziative ma quello che ospico è la realtà cioè stiamo lavorando al fine di poter far conoscere Tolfa nel miglior modo possibile e soprattutto di far apprezzare Tolfa quindi c'è un'attività intensa un'attività che va dalla didattica come prevede questo progetto a tutta una serie di iniziative che invece promuovono proprio il nostro territorio sia per quanto riguarda gli aspetti culturali come in questo caso quelli archeologici e quelli ambientali è un progetto sicuramente buono mi pare che sia il terzo anno questo due anni questo è il terzo e sono quei progetti che portano alle radici delle proprie origini quindi la fondazione risposa molto volentieri debbo dire come è stato detto prima che Tolfa è iperattiva nella presentazione dei progetti tutti buoni tutti validi e noi chiaramente siamo vicini proprio perché crediamo nei giovani crediamo nell'importanza di dare ai giovani la conoscenza quella conoscenza che è fondamentale del proprio territorio Imparo e mi diverto iniziativa del comune di Tolfa che porterà l'archeologia la natura e l'arte nelle scuole questi laboratori vengono fatti su al museo di Tolfa e sono promossi dall'associazione culturale Chirone che diciamo agisce sul territorio e particolarmente nel museo infatti noi ci occupiamo appunto della gestione culturale del museo siamo giovani lavorati in archeologia e restauro che hanno a cuore la promozione del territorio soprattutto nelle scuole nel particolare grazie al contributo erogato dalla fondazione Cari Civ Cassa di Risparmio di Civitavecchia abbiamo intrapreso questo iter formativo nelle scuole in cui proprio uniamo una sorta di laboratorio didattico dove uniamo la conoscenza diciamo nozionistica unita al lavoro pratico il nostro motto è un po' imparare facendo ovvero diamo delle nozioni basi di archeologia di storia però poi vengono subito tradotti in un lavoro manuale che rimane appunto impresso nella mente soprattutto anche per stimolare l'attività e la manualità dei bambini in un'attività Grazie.